La cosa importante è che non è un bonus che si sostituisce a tutte quelle che sono le attività che vengono già svolte dai servizi sociosanitari, non si sostituisce all'iniziativa privata di capacità di scegliere di essere aiutati in momenti difficili, è un intervento che inseriamo all'interno dell'ambito del diritto allo studio, comprendendo che è una necessità emersa soprattutto dopo questo periodo ed è una necessità che serve agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per superare eventuali problematicità.